ok salve a tutti benvenuti nuova puntata del fifa la fifa fut e disperazione e la disperazione è online dove abbiamo realizzato la bellezza di zero punti in due partite l'ultima dall'altro clamoroso insomma in modo in cui ci siamo fatti sfuggire via si spera che che ci sia un po meno risperazione dopo le sbustate di oggi io direi sbustare un pacchetto oro premium maxi e un pacchetto oro rari e vediamo un po nei due cosa ci viene fuori cominciamo col pacchetto oro premium maxi speranza di un po o attenzione inglese di il sole centrale c'è sì cahill cahill attenzione e questo è interessante e questo è davvero interessante e sì è ottima abbiamo un arnautic può esserlo sinistro ma vabbè poca roba e verso timor se pumba e vabbè poi vabbè altri giocatori un po così moreno qua che bello che questo qua santos terzio sinistro e poi tutta una serie di contratti contratti a questo può servire un po meno questo sì la maglia del seconda maglia del perù ottimo questo io direi lo scarto lo scartiamo sì 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 scartiamo tanto lo stadio doppione non credo non ce ne facciamo molto allora io direi intanto cahill invia la rosa attiva perché ho allora si abbasserebbe leggermente qua l'intesa certo ne guadagnerei uno allora questo difesa maggiore tiro c'ha di più drivi vabbè passaggio non capisco perché questo è 84 perché mi sembra più scarso da lego però allora questo vorrebbe un po meno di intesa l'altro difensore centrale gimenez non lo so perché potrei metterlo a posto di gimenez gimenez però non lo so rischio di metterci potuto anche se anche se non è vero non è detto per forza non è per forza vero perché comunque c'è soltanto il terzino destro sarebbe sarebbe diciamo non di quel tipo allora facciamo una cosa proviamo a metterlo qua al posto di gimene gimenez questo inviamo al club e adesso li collezioniamo poi ci facciamo poi un ragionamento meglio dopo allora intanto pacchetto oro rari sono 12 giocatori tutti e 12 oro tutti e 12 rari vediamo un po cosa ne viene fuori eh no non mi sembra nulla di che porti non ci credo di nuovo cameni doppione cameni doppione oh signore questo è il migliore immagina ah è oro va bene però abbiamo questo sinclair esterno sinistro sterno sinistro sinclair però scottisce premier league peccato questo è il campionato argentino diciamo che è stata una mezza allora io direi questo cameni andrà in lista da sperimenti proprio in quanto doppione si 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 cameni vai cameni vai cameni vai cameni vai cameni vai ok allora stab stab ab center e intanto mi si è interrotta la connessione che bello allora sinclair questa diciamo una sì qualche cosa che può essere utile lo stadio olimpico ce ne ha detto ab stab center è doppione e io direi lo scarto ci faccio questi 56 crediti anche perché venderlo non credo che nessuno se lo comprerebbe io direi che questi quello e si posano allora io direi un attimo ragionare un attimo un po su una cosa andiamo per fare la partita online ma per fare la partita online io direi dovremmo un attimo ragionare mettici fermi e ragionare un attimo bocce ferme allora gioca partita allora non dica formazione ora sì questo va meglio a questo punto potrei completamente trasformare la squadra cioè trasformare completamente qua significa nei titolari significa semplicemente mettere un terzino destro il terzino destro è un portiere di squadra inglese però vediamo un attimo la situazione allora scambio giocatore qui in terzino io direi campionato premier league e non ho terzini destri di premier league eh 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 e questo diventa un problema perché qua potrei qua potrei metterci foster anche per quanto non mi faccia impazzire potrei metterci foster Allora, qua Mortiere 5 di Intesa mi diventa Allora Mi manca il terzino destro Mi manca il terzino destro E qua diventa Un problema Perché non ho un terzino destro Di questo campionato Di campionato inglese Potrei adattarci Un difensore centrale Ma E' un rischio E vabbè Vabbè Però, senti, metto questo qua E rimetto quello lì Eeeh I problemi sono di vario tipo Qua non è solo uno Il problema sono vari Allora Purtroppo Il problema E' di varia natura Direi che al momento Meglio così non si può fare Però a questo punto Devo cambiare il portiere A meno che No, sentite Eeeh Facciamo per ora Ci rimettiamo un po' Ma No, 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 no Facciamo così ma si mette foster Ok, cambiamo il portiere Applica consumabile No, che applica consumabile Eeeh Cambia giocatore Portiere Poster o worm Boh Sperimentiamo worm Che è come over Non è solo un punto sotto Però magari Questo consente Di far sere un po' il tutto Ok Eeeh Ma Eeeh Un tentativo Che possiamo fare Ok Va bene Eeeh Direi anzi Scusate Scusate Io a questo punto Voglio Scusate Io direi che a questo punto Taglierò un poco E ci vediamo dopo Perché devo Cambiare le cose A livello Di Riserve E ci vediamo dopo Ok Abbiamo quasi del tutto Modificato la situazione Eeeh O meno Abbiamo messo Diciamo Tutto Di un solo club Di un solo campionato Ovvero Quell'inglese Sarà una Una formazione Appunto Prettamente inglese La nostra Prettamente campionato inglese In modo tale che Magari Posso anche inserire in corsa Qualcuno Se penso Di poter Migliorare la cosa Beh bene Meglio così Vedremo Vedremo cosa si riuscirà a fare Vedremo Se ci saranno miglioramenti Che si riuscirà a fare Eccetera Avere le alternative Non è una brutta cosa Soprattutto online Diciamo che io finora Usavo due campionati diversi Nello Nello stesso 23 Diciamo Per Per usare più campionati Di cose varie Adesso Proviamo Proviamo un attimo A vedere cosa si riesce a fare Allora Sì però Se devi fare così Ok Ok A posto Mi vedo messo Malino Io mi vedo messo malino Però Ok Perfetto Così un attimo Continuiamo Che partiamo Per l'online La squadra Io ho visto Che Che non sono messo Benissimo rispetto a lui Come squadra Nel senso Almeno come Ho giusto Più intesa Ma Lui c'è una squadra Di giocatori assurdi Ed è un problema Ma Cail Mamma mia Ma C'è proprio brutto Sto Mamma mia La sto soffrendo brutta La sto soffrendo brutta Mamma mia Come la sto soffrendo brutta Tanto cross Ah no Stavolta È uno che tiene palla Comunque Io Passa Bravo No Bravo Fai Chiorente Fai oro Io oro Iorente Bravo Ma qualcuno È là Ma chi scivolata A fare Proviamo a vedere Cosa riesce a fare Vai William Iorente Onninson Efi Iorente Io poi Un paracampo Sì vabbè Ciao Eriorente Ciao Son Noi c'ho Non ho proprio modo Non ho proprio modo di reagire Alle cose Perché Purtroppo laggando Mi ritarda Eh ciao Ehm 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 Mamma mia Poi lui Cioè Io proprio Quando lagga Poi mi trovo malissimo Porca In veria Lui c'ha Lui c'ha Tra l'altro C'ha dei giocatori Che sono Pazzeschi Dai Iorente Mamma mia Che brutta Cosa Vai Bravissimo Vai Vai Son Sotto Goal 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 di Son Ehm C'ho il VAR in diretta Praticamente C'ho il rallent in diretta Però goal C'ho il VAR in diretta Praticamente Però goal 1-0 Son Ora C'ho Non c'è Eh vabbè Ciao Qua però Signori E qua Ehm Praticamente Impossibile Giocare Io Mai ho avuto Mai ho avuto Una partita Più laggata Di questa Ehm 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 Mettici Tutto Mettici Su squadrone Mettici Lagg Mettici Tutte cose Ehm 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 Allora Vabbè Dai Proviamo a giocarci Proviamo a fare qualcosa Non lo so Ehm Ehm Non la vedo bene Però se magari crossa Eh sì vabbè E io non volevo Ovviamente io non volevo fare il cross Basso Però Ho dovuto premere più volte il cerchio Perché Perché non me li prende Boh Poi Sarà Sarà una partita molto comica Molto surreale Però vabbè Ehm Ok Ahia Sì vabbè Vai Worm Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Poi Lì Ma un passaggio in più Che non volevo fare Ma vabbè Aaaa Meno male Partita assurda Un po' surreale Però vabbè Dai Allora Vai Jorente E quando mai E quando mai Ne prendi una di testa Lag o non lag Jorente Di testa Non la prende Mai Vai Sonde Tira E gol 2-1 E 2-1 E 2-1 Vai Difensiva C'è tutto il tempo Che non è proprio Unico picci Nooo E cioè ciao Bravo Worm Nooo Vai Gnome Vai Bene Vai Gnome E' tutto solo Nooo Peccato 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 Eh Eh Ehi direi Abba un cartellino Magari giallo Ecco Magari giallo ci sta Dai Vittor Vittor Dai Vai Vai Pedro Crossa Bella No Peccato Peccato Bene Bene Vai Crossa la Pedro Bella Sì Gusson No Sì Gusson Non puoi sbagliarmi questa Non con la fronte Non con la fronte Vuole una conclusione Guardabile Vai 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 son Pecchiorete No Por Ci credo Non ci credo Secondo palo In pochissimo tempo Sto combattendo Contro qualsiasi cosa Praticamente Sto combattendo Contro qualsiasi cosa C'è Contro il lag Contro la sfiga Contro uno squadrone Allucinante Che c'ha lui Sto combattendo Contro qualsiasi cosa Sono in vantaggio Non so per quanto Ma va bene Ok Contro questo Tra l'altro Violentissimo Nel Proprio Va di scivolate Per potenti E ovviamente Non Oh Aia No Eh vabbè Ciao però Gol No manuale Ok Form Eh ciao Calma 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 No 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 Bravo Vorm Bravo Vorm Bella La parata Vorm 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 Quando vai Porca Ma perché Intanto Sta laggando Ancora più di prima Adesso Sta laggando Eh Punizione Sembrava rigore Ma ok Io metto qua Sushi Vai Manda via Manda Non ci credo Ma È incredibile 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 Proprio la sfortuna La sfortuna Assurda La sfortuna E vabbè Dai E vabbè Dai Proviamoci Gita fuori porta Non è che Si era avuto 350 Rimpalloni Era fine Di entrata Ah Beh Dai che ho preso La palla Questo per loro Questo per loro è fallo La palla è fallo Vabbè È FIFA È FIFA L'arbitraggio di FIFA È quello che conosciamo Oh Dai Sì vabbè E vabbè E vabbè E vabbè Purtroppo così Va Così va La cosa Ah vabbè Purtroppo così Va la cosa Allora Vai Llorente Vai Llorente Vai Llorente Vai Llorente 3 a 3 3 a 3 Llorente Vai Llorente 3 a 3 3 a 3 Con Con la Con la forza Con la forza di volontà Questo l'ha fatto Se l'è presa lui È andato a prendere Una palla Proprio con la forza di volontà Questo c'è arrivato Bene Ancora Llorente In qualche maniera Se ne va Bravo Lloro Oh Trossa lui Son Incredibile Incredibile Sostituzione in vista Pier Sostituzione Williams No Incredibile Bravo Bravo No No Eh ciao 4 a 3 Per loro Meno male Sì vabbè però Dai È incredibile Questa cosa Bravo Non ti avevo chiesto Questo rindio Ma ok Zon Vabbè Qua Palla Palla Ma chi ha A chi la dai Bravo Neom No Cos'è sta cosa Cos'è sta cosa Io passaggio Io triangolo Premuto Nostra 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 Vabbè Ok Perché angolo Grabe il mistero Perché angolo Questo Bravo Vormo Bravo Vormo Bravo Vormo Dai che è tua Bene Dai 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 che è tua Vai Vormo Bravissimo Bella Python Son Dai Non puoi mangiarti Sti gol Bravo No E vabbè però Gli regaliamo pure i palloni In questa maniera Fuori gioco Fuori gioco Ma di due vite e mezzo Tipo Ah qua l'ha chiamato fuori gioco Vabbè E vabbè Che dire Vabbè Comunque Vormo Prova di impostare di là Niente Per ora che mezzo Prova a ridare Per ora che mezza io le provo a ridare Primo punto Primo punto Poteva essere vittoria Nonostante tutto Primo punto E vabbè E così è andata E così è andata Boh in qualche maniera E così è andata 3 a 3 In senso Poteva essere vittoria Però vabbè Però vabbè Va bene così Ora Io direi Andiamo di squad battles E alla squad battles A questo punto Direi quale Direi quale Direi quale No Andiamo di una cosa Cercare di farla Più restante possibile Cerchiamo di andare Sul facile Anche perché C'è una squadra da sperimentare Diciamo Comunque Vengo di qua Ah Scusate Stavo iniziando E Direi che ci vediamo A formazione pronta Ecco qua La nuova formazione Posso tranquillamente dire Che è una squadra Senz'arte Ne parte Cioè Vabbè Che dire Proviamoci Proviamo a vedere Cosa ne esce fuori Io credo Nulla di buono Però Vabbè Proviamoci Ok Io tra l'altro Io potevo far entrare Qualcuno Non l'ho fatto entrare Colpa mia Purtroppo Non ci sono abituato A pensare A detenuti E scelte Comunque Vedete Foster Poi la sinistra A destra Peters Mangalà Lovren Lustondo Ritorno di Lustondo In campo Centrocampo Con McCarty Proppero Biang Triente Attacco La sinistra Arnautovic Joselu Carrillo Signori Vediamo La squadra I nostri avversari Non sono fenomeni Questo è vero Tanto Quello schierato Come terzino Destro Veramente Lo Raccomando Comunque Dai Vediamo Vediamo un po' Come va L'arnaut Ora Sarà Proprio Tutto Nuovo Vedere Un attimo Come mi gira Sta squadra Conosco Solo Lustondo Di tutti Questi E forse Attenzione A Carrillo Intanto E Carrillo Mi segna 1-0 Yau Bene Bene Sono contento Sono contento Sono decisamente Contento Con un colpo di testa Potente e preciso Esecuzione Perfetta La parte Di questo Bravo Yoselu Yoselu Mamma mia Però Yoselu Signore C'è Un altro Paracarro E' Yoselu Però Mamma mia Un altro Un altro Brutto Paracarro E vabbè Io Si spera Sempre Peters Ah Peters Un altro Che conoscevo Allora Pro Per McCarty McCarty Lo avevo PES Vai Per Arna Oh Attenzione Arnautovic Attenzione Arnautovic Sì vabbè C'è da dire Che se un gioco Perché Perché Non è angolo Vabbè Ok Il mistero Di FIFA Comunque C'è da dire Stiamo giocando Contro Una squadra Di disperati Però Attenzione A Yoselu Vabbè 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 Yoselu Vabbè Vabbè Sarà dura Ragazzi Sarà dura Sarà dura Forse non questa partita Ma altre squad battles Saranno Durissime In questa maniera Io lo so Lo dico Saranno brutte Saranno dure Io sto Onestamente Pensando Di provare Allora Bella Vai Arnautovic Arnautovic Oh Bella Bella Arnautovic Bella Arnautovic Bella Arnautovic 2 a 0 Bene 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 Così Bene Così Assolutamente Bene Così Squadra Literalmente Di campionato Inglese Che forse sta andando I suoi frutti Come dire Anche con le riserve Magari Più avanti Arnautovic Va via Attenzione Arnautovic Attenzione Attenzione Promette bene Promette bene Promette bene Promette Arnautovic Non me l'aspettavo Così efficace Però Bene Cioè Bene Buono Buono Sapersi Diciamo che Ne Ne Terro Conto Ne Terro Conto Perché Sembra Lento 77 Velocità Insomma Non è Quello Che Si può Definire Un Centometrista Però Mi è piaciuto Come si è inserito Intanto Peters Cross Cariglio Stava per Segnare di testa Ma niente Allora Poi Veniamo un attimo Scusate In trovo Vai Arnautovic Cariglio Attenzione Arnautovic Vincino La tripletta Bene 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 Allora Poi Siamo così Eh Niente Ma attenzio Che lo fermo Cosa Va Attenzione Fermo No 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 Va Bene Non va Bene Mandala Mamma mia Difesa Devo dire Coriacea No Di quelle Belle difese Coriacee Mangala Diciamo Mezza Minchiata Anche qualcosa Di più Credo Da averla Fatta Io Però Vabbè Le carte Ma Che Che Cosa Brutta Che Cosa Brutta Lovren Bravo Bravo Ehm Allegria Io spero Spero che le prossime buste arriveranno Dei terzi di testi di campionato inglese Perché Dovrei adattare L'altro Può diventare un serissimo problema Sono tutti maledettamente lenti E' l'ustondo Vai Io Io Questa In partite serie La soffrirò Questa Intanto Beh Un po' così Comunque Questa In partite Con avversari Seri Probabilmente Le soffrirò Le soffrirò Tanto Tanto Arnautovic Fa la tripletta Diciamo 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 che Diciamo che esordisce alla grande Arnautovic Cioè Prima partita Tre gol Direi Alla grandissima Un po' è strano Perché se lo vedi Vedi la velocità E' 77 Quindi una roba che Tipo Piantato Piantato a terra Dovrebbe essere Tipo piantato a terra Come un chiodo E invece Vabbè Io ripetisco E' possibile Anzi probabile Che risulti essere Cioè Non Non sembrare così piantato Semplicemente Perché Noi avversari I miei avversari sono Insomma Una squadra Di un giocatore Un po' così Tutti i giocatori bronzo Insomma E' anche Possibile Insomma Che sia più dovuto Agli miei avversari Che Anzi Mamma mia Sì Io penso questo Perché Cioè sto vedendo anche Roba da parte dei miei Che Si capisce Non si capisce Mamma mia Io Io qua mi procco Perché La squadra Con giocatori così Arriva Arriva in aria In questa maniera Più facilmente Di quanto dovrebbero Non oso pensare Con un avversario Seri Cosa possa succedere Poi se io li metto A fare cavolate Del genere Bravo Foster Io direi basta così No Direi basta così Cavolate Però magari Gioselu Ma chi Niente Non Ma un po' Propper Ok Meccarti Meccarti L'ha visto Per Carrillo Vabbè Decisivo Vabbè Posso dire Vabbè Ok Ok Questa Vai bravo Per Carrillo Per Gioselu Partita Abbastanza Tranquilla Facile Insomma Va bene così Bene Bene Direi molto bene Proviamo Vabbè Ortega 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 non è un Scusate Mi sono un attimo Confuso Ma Non malaccio Mi parisco E' possibile Che Che ci Ci colpino Molto I miei avversari Perché comunque C'è Sono giocatori Tranne due oro Sono poi tutti Giocatori bronzo E quindi E' possibile Anche Che Che sia Questo Vai Bello Bianco Carrillo Carrillo Fai di pretta E vai di tripletta Va di tripletta Carrillo Oh 6 a 0 Direi Possiamo andare Alla grande Vai E' una gara A senso Unico Questa Ormai Ortega Abra 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 Ma Ma Peter Cosa Fai Che Fai Peter Cosa Comini Peter Manca Puttana Peter Alla Comunque Oh Bravo Mangala Obiang 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 Vai Carrillo A chi Chiola Crossi E Arnau Eh Va beh E Questo Cosa Successo Non si è capito Però va bene Va bene Vai Mamma Ma Che cosa Che Che roba Brutta C'è Cosa Arnautovic Che ha Tipo L'elevazione Che Io Con la Sciatica Praticamente Ma 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 Comunque Vai Mena Attenzione Mena Eh Scusate Battuta Battuta Tragica Ma Si fa Spazio Bene Vai Obiang Attenzione Obiang Prova E segna Obiang Obiang Ci mette anche lui La sua firma Ci mette anche lui La sua firma 7 a 0 Yeah Quindi Ora E' un po' così Allora Eh Sì Ciao Eh Eh Direi Bene Eh Sì Ciao Vabbè Difesa Attenzione Occasione Io Poi Me lo sono Mangiato Per fare Un po' troppo Per fare Per fare Un po' troppo Lo so Lo scaltro Però Attenzione Obiang Fuori Comunque C'è la difesa Anche Alfa Had Vedo Giocatoroni Eh Vedo Vedo Entrare Giocatoroni A loro squadra Alfa Had Attenzione Eh Porca Bravo No Forse Stava Per farsi Uncellare Da questo Tiro Eh Che dire Mamma mia La vedo La vedo Brutta La vedo Davvero Brutta Vai Bravo Joselu 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 Che va Arnautovic Bravo Arnautovic Se ne va via Arnautovic E Gol Fa Poker Poker Di Arnautovic All'esordio Isordio Purei All'esordio Poker Di Arnautovic Che dire Vabbè Alla grande Alla grandissima Fran Sol Quando Carina Magma Fangula Fran Sol Hanno Rischiato Anche Di buttarla Dentro Cario Cario Joselu Cario Mamma mia Che paracarri Che paracarri Ripeto Questa Mi sta andando Bene Questa partita Con avversari Di serio Non so Come Andrà Vai Gross Joselu Fine 8-0 No Tutto sommato Forse Quasi Quasi Può andare Questa Questa Puntata Dai Abbiamo Sperimentato Diciamo Una squadra Interamente Interamente Di Premier League Intanto Mi ha puntato 1.200 Va benissimo Diciamo Dicevo Abbiamo Sperimentato Una squadra Interamente Di Premier League Sia Titolare Riserve Certo Abbiamo Sperimentato Prato Riserve Che Almeno Contraversario Di Fascia Passa Sembra Funzionato Abbastanza Ci sarà Un attimo Da vedere Come andrà Con Avversari Di Ikero Più Alto Online Abbiamo Fatto Un punticino Potevamo Vincere Ma Un punto E' meglio Che Niente Così Penso Non ci sia Altro A dire Di Aggiungere Direi Che È Abbastanza Bene Per Quello Poteva Andare E Quindi Direi Che Ci sentiamo Ci sentiamo Ci vediamo Insomma Alla Prossima Ciao a Tutti Ragazzi Prossima Prossima